...un tecnico commerciale che ha partecipato a un'iniziativa formativa che ha organizzato l'iniziativa insieme ad altre nuove scuole, anche per chi non ha partecipato a queste disegnative che vedono varie attività dalla relazione del disegno di legge al contatto che adesso noi procederemo a consentire di nuovo a questi ragazzi perché hanno volto un lavoro e che hanno anche discusso e approvato come il senatore. Chi è il relatore del disegno di legge della ragazza? È un disegno di salari. Bene, all'unanimità si intende approvato. Grazie. Simone Cozzi Samuele Dondossola Laura Reganati Stefano Rossoni Grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.